giorno secondo oggi parleremo della redazione dei testi ovviamente siamo su internet e quindi i testi che consegnate su internet sono spesso digitalizzati va benissimo ma vi consiglio di stare ben attenti a cosa mettete perché prima di tutto non è che può essere non si accorge su un testo l'avete scritto o non l'avete scritto voi ce ne accorgiamo benissimo perché dopo un anno due di vetture di vostri testi sappiamo benissimo riconoscere quando un testo avete scritto e quando non l'avete scritto ora parlando il nostro caso io ho avuto su 25 12 temi quindi anche quelli che insomma hanno un po raffazzonato ad essere a manca su internet io anche premiati perché rispetto a quelli che giustamente non hanno fatto un tubo insomma almeno loro si sono si sono mosso in senso hanno avuto uno spunto un momento di di attivismo ma naturalmente state ben attenti quando prendete testi soprattutto anche perché si tende si tende molto spesso a fare copia e incolla o per far prima ma questa da questo punto diventa solo un esercizio puramente meccanico e quindi che ha valore praticamente rispetto allo zero non far nulla ad un 0,5 per cento quindi si dà diciamo che uno è acceduto in rete ha fatto qualcosa ecco possiamo metterla così ma partiamo ovviamente da alcuni siti che potete utilizzare il sito si principe e lo studente di chi per wikipedia si dice così perché io sbaglio sempre dicono wikipedia ma come dice l'accademico della cusca e wikipedia perché lì chi viene dall'hawaiano che vuol dire veloce e wikipedia vuol dire veloce e pedia vuol dire educazione significa educazione veloce ma naturalmente non è che siamo non è che il wikipedia wikipedia come enciclopedia sia sbagliato usarlo ma va usato con la debite precauzioni senso fare il copy in code da lì è sempre pericoloso perché non sai mai chi lo ha scritto cioè non sai bene chi ha scritto mentre se andate appunto http doppia puntini slash slash treccare punto it trovate l'esempio soprattutto in cervelle treccani che vi consiglio è scritta da professori grassi itali poi trovate il vocabolario di aldo duro dei più celebri realizzati in italia ho anche il sito dell'accademia della crusca accattamento slash slash www.accademielacrusca.it scaffali digitali se ci interessa il bellissimo grande edizionale tommaso bellina di saldo 800 ma che vuoi insomma potete anche saltare mentre per se volete una biblioteca digitale abbastanza accessibile gratuita e liber 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 se si legge ma liber liber http 2 punti slash www.liber.it che è una raccolta di testi di lettatura italiana digitalizzati in vari formati sono i formati text rtf doc o dt pdf perché sono i nuovi formati il libro dell'elettronica c'è anche la raccolta biblioteca italiana dell'università della sapienza di roma ideata da medeo quonda tra l'altro vi si possono scaricare gli scrittori di italia allora naturalmente 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 io salterò lasciamo per detto ma se a bellini con vocabolario dell'ottocento che quindi è importante ma insomma questo serve riccato degli studenti universitari e per il del liceo naturalmente il problema è che internet molto spesso non è pensato per l'italiano che in internet è una lingua minore quindi esiste alla stessa wikipedia esiste in 280 lingue ce ne sono anche versioni nei dialetti per esempio una wikipedia piemontese vabbè al sé che per cercare questo è un wikipedia in basco naturalmente dei grandi lingue nazionali anche per una semplice curiosità lingue di internet anno vi faccio vedere questo schema proprio riassumo allora la lingua più usata nella rete certamente l'inglese che ha circa 565 milioni d'utente poi il cinese 510 milioni d'utente lo spagnolo 165 milioni d'utenti e il giapponese 99 milioni d'utenti il portoghese 83 milioni d'utenti va considerato che c'è anche il brasilio il tedesco 75 milioni d'utenti l'aramo 65 milioni d'utenti il francese 60 milioni d'utenti il russo 60 milioni d'utenti il coreano 39 milioni d'utenti di italiano 20 milioni di utenti quindi posso la popolazione quindi è ovvio che l'italiano viene addirittura dopo il coreano il russo il francese il coreano e questo mi stupisce un po ma comunque il coreano il francese anche perché il francese è parlato in africa l'armo è diffuso in tutto il mondo diffuso in tutto il medio oriente quindi dall'africa all'irac quindi è ovvio che quando cercate qualcosa molto spesso molto spesso la potreste trovare in inglese naturalmente la bella lasciamo perdere tutto il resto che andiamo alla questione di come si scrive una questione di proporzioni chi produce un tempo il riassunto veniva screditato ma in realtà riassunto è un ottimo elemento per vedere se lo studente ha capito o meno un argomento per esempio il tema libero andato su 25 aprile ha scatenato ha scatenato libero si va parlato il 25 aprile a quelli non ne hanno parlato ovviamente ma per ovvi motivi ma il riassunto è perché hanno adattato hanno adattato alcune cose che non c'entrano non c'entrano ma insomma ma è ovvio che il riassunto invece permette al professore certamente si possono trovare riassunte anche di tutto insomma su internet trovate di tutto ma naturalmente il riassunto permette di valutare se lo studente ha capito ciò di cui si parlava o un testo o un libro chi produce il riassunto di un dato testo la propria cosa sta per una certa esattezza la scala di riduzione cioè io non posso fare il riassunto 1 a 1 cioè più o meno quando si riduce una fotografia da 4 a 1 da 3 a 1 quindi si calcolano le parole le battute io stabilisco che mi era assunto non durerà più di un certo numero di battute le battute sono la misura più esatta calcolando anche gli spazi bianchi perché quando si calcolano le battute si calcolano anche gli spazi bianchi cioè non solo le lettere scritte ma anche gli spazi bianchi perché le parole non sono tutte della medesima lunghezza e dunque potrebbero fruttare un calcolo un po di disomogeneo insicato tutto quanto lo spazio utilizzato in un foglio non cartaceo ma virtuale qualunque sia l'unità di misura scelta comunque normale programma di scrittura word permette di calcolare immediatamente l'ingombro di un testo in base vari parametri in world 2010 per esempio il riferimento una piccola porzione nostro questo in world trovate ovviamente pagine 2 visi nel nel sandate in world e mi sembra in conteggio parole statistiche revisione o qualcosa statistica o qualcosa di simile pagine 2 vi conta le parole 1315 parole questo calcolato ovviamente un piccolo capitolo caratteri spazi esclusi 6.957 caratteri spazi inclusi 8.271 paragrafi 7 righe 90 o includi casale di testo nota a piedi pace quindi le battute sono quanto quanto io decido di farlo un contesto soprattutto per i giornalisti questo è importante perché su un giornale non posso fare un articolo di 30 pagine di solito danna ogni giornalista per sempre a questo qui gli hanno dato 4.000 battute c'è 4.000 battute vuol dire che lui doveva descrivere un argomento in 4.000 battute comprese testi bianchi e testi scritti e oggi ci sono assegnati 1100 battute spazi compresi lui lo chiama letto di propuste perché nel giornalismo ovviamente il giornale non se tutti scrivesse 30 fogli protocollo sono attuali fogli protocollo 20 giornale diventa un'incinopedia quindi l'editore l'editore ti impone di fare di spiegare che ne so la guerra in afghanistan in 1100 battute e come si dice giustamente ci dice giustamente claudio marazzini accorciare è più difficile allungare perché è ovvio che perché è ovvio che per essere efficace la comunicazione per essere efficace in realtà non deve essere lunghissima deve essere della misura giusta occorre individuare la gerarchia delle argomentazioni perché la riduzione dovrà colpire come ovvio quello che è subordine non quello che è fondamentale se io parlo della di restore è ovvio che facessi se facessi un riassunto sul re sole devo fare verso le versaglie con la politica economica delle guerre ma magari posso ridurre che ne so la moda al tempo del re sola potrei eliminare se avessi un testo di 1100 battute dovrei comunque mantenere i punti cardine fondamentali verso la vita del re sole i suoi principali atti politici economici la sua morte quella che in subordine sempre la moda la moda delle calzature del 1600 e 700 potremmo tranquillamente saltare se non è un testo se ne un libro specifico né un libro di 500 pagine posso metterci anche questo occorre ovviamente se sto riassumendo appunto un testo sulla sul re sole salto le parti che ovviamente non interessa che non interessa tutto interessa ma se devo riassumere un libro e 500 pagine in 10 pagine o insomma un articolo di 50 pagine in 5 pagine 9 molte cose devo lasciare solo i punti cardine se fosse il resto da punto vita nel verso l'avvenimenti principali quello che si fa imparare con powerpoint bisogna dare letto una sintesi cioè un riassunto che non tradisca il testo di partenza cioè non posso fare un riassunto sul persone parlando solo di versaglie e basta se non mettendo chi era il re sole perché si chiamava il re sole eccetera eccetera dunque per produrre un buon riassunto dovremo per prima cosa segnare magari anche materialmente con segno dell'evidenziatore o con la sottolineatura gli snodi fondamentali del testo cioè io magari scrivo il testo ma prima battuta e poi sottolineo quelle parti che secondo me non possono essere cancellate i punti in cui ricorrono i concetti chiave concetti chiave per esempio lo stato l'assolutismo i concetti chiave del testo che non potrebbero essere trascurati la riduzione sarà tanto più drassi quanto sarà più forte cioè se ovviamente io devo passare da 10 a 10 a 1 devo ridurre al massimo e mettere cioè più il testo più riassunto deve essere breve se io vi dono riassunto di mille battute devo individuare solo i testi di caratteri fondamentali al regno del versore il passaggio del 10 a 1 ovviamente più difficile passaggio a 4 se da un testo 10 lo devo ridurre un testo 10 volte è più difficile di un testo di quattro volte mi sembra ovvio è un po come le fotografie più le rimpicciolisco e più la leggibilità diventa inferiore naturalmente nel riassunto se la riduzione è molto forte io devo ridurre al minimo i giudizi personali cioè posso dire a me adesso mi stassi in pari non mi stanno in pari ma se ha una riduzione da 10 a 1 devo mettere solo le notazioni fondamentali se il riassunto deve essere assolutamente oggettivo devo stabilire se il professore mi dice deve essere assolutamente oggettivo mi devi dire solo i dati principali della vita del versore basta non voglio ovviamente se il testo deve essere di mille battute è ovvio che io non posso ometterci giudizi personali oppure però potrebbe anche essere un giudizio soggettivo il professore ovviamente vi può chiedere di inserire un commento vostro sul professore naturalmente è più facile riassumere un testo narrativo o storico che è un testo argomentativo cioè due che discutono che sono sulla bellezza del tramonto un po difficile quello riassumere mentre allora questo chiariamoci su il copia incolla e riassunto automai copia incolla non è riassunto è ovvio che ne capito precedente abbiamo parlato di piccoli pilati che praticano il copia incolla c'è gente che va in un sito copia incolle lo mette in un altro sito questa abitudine non è sconosciuta agli studenti il riassunto ci sarà la copia incolla cioè io non voglio che tu mi incolli dei pezzi del libro e me li metti in sequenza perché si può copiare senza leggere ma non si può riassumere senza legge almeno per ora ora lasciando perdere gli assunti naturalmente il naturalmente o dorin ma io a questo punto mi fermerei anche qui quindi su queste piccole consigli di scrittura mi fermerei qui e poi magari faremo un piccolo esercizio insieme ma sul riassunto magari facciamo un piccolo riassunto anche un libro capitolo di storia di quello che volete voi in cui date una certa una certa sequenza di ordini di ordine senso di comandi che vengono dati dal professore voi dovrete voi dovrete dovrete dovreste eseguire un piccolo testo scritto in cui si riassume non si copia incolla un testo dato un testo lo si riassume se riassunto deve essere ovviamente per esempio del capitolo di un capitolo di storia ovviamente se io vi chiedo di riassumere i punti essenziali è ovvio che vanno riassunti secondo voi quali sono i nodi essenziali di un testo e ovvio contesto scolastico si presta meglio di un testo letterario perché se dovessi riassume di una commedia ma anche un canto di una commedia mentre un testo scolastico è già predisposto per essere riassunto cioè già dei capitoli dei sotto capitoli alcune parole sono evidenziate in grassetta e questo sicuramente uno dei momenti più facili del riassume con questo vi saluto e vi lascio